La partita è una partita difficile, scorbutica contro un avversario secondo me che ha completamente stravolto la rosa. In questo momento qua decisamente è una squadra molto competitiva sul piano fisico e sul piano dell'individualità. C'ha anche cambi veri e ha preparato la partita giusta per metterci in difficoltà. Ha fatto una partita bassa, ha riempito molto la metà campo, ha raddoppiato sempre gli esterni. Ciò nonostante nel primo tempo delle situazioni sporche per far gol abbiamo avute e non si poteva pensare di vedere un'azione pulita perché non c'erano gli spazi per poter avere questo. Bisognava far gol su calcio d'angolo o su qualche traversone da sinistra che abbiamo fatto che poteva essere sfruttato meglio. Però secondo me quando si vedono queste partite il primo tempo, la prima ora, i primi 70 minuti sono preparatori per il finale di partita perché il Prato comunque ha speso, nonostante i cambi che ha fatto che erano all'altezza, ha speso per tenere comunque quella solidità che solo in certi momenti gli è venuta meno. Ma diciamo si è sempre poi rialzato, non siamo mai riusciti a metterlo proprio lì completamente. E devo fare complimenti al Prato perché secondo me ha fatto una partita gagliarda e onesta. Cioè se finisce 0-0 vieni qua e fai complimenti al Prato. Nel senso che ha fatto la partita che deve fare secondo me per bagnarti le polveri il più possibile. Però oggi secondo me abbiamo fatto una vittoria di gruppo importante perché sono entrati i giocatori freschi con la mentalità giusta. Sapevamo che era difficile. È una settimana che stavamo preparando la partita e gli ho detto è la partita della pazienza. È la partita della pazienza e secondo me l'abbiamo portata in campo. Abbiamo fatto un gol a campo aperto a Prato al novantesimo. Questo secondo me forse farà arrabbiare il mister perché penso che lo farà arrabbiare. Però per noi secondo me è una cosa significativa. Carlo Favarin perdere così fa male, ma fa parecchio male. Ad un passo dalla meta il Prato perde con il Rimini. Al novantesimo un gol preso a campo aperto. Premesso che abbiamo trovato una grande squadra, faccio complimenti a mister Grabuto perché sinceramente è una squadra da campionato. Queste partite le vincono le squadre che vinceranno il campionato. Non ho visto le altre ma penso che questa sia una squadra che ha tutto per arrivare in cima e vincere questo girone. Squadra di qualità, squadra solida, squadra compatta. Solo una squadra come questa poteva trovare un'occasione del genere al novantunesimo. Noi abbiamo commesso un errore dove purtroppo abbiamo creato la nostra partita per assurdo. Abbiamo preso un gol in uscita, in contropiede. Quando noi abbiamo pensato soprattutto a non concedere spazi nella profondità, lì purtroppo c'è stata un'uscita in ritardo. Chiaramente quando capita la palla nei piedi di Gabbianelli può fare queste giocate e abbiamo perso. Dispiace perché era una partita a cui tenevamo molto e sinceramente qualcosa in campo per portare via un punto l'avevamo fatto. Dobbiamo rimboccarci le mani che mercoledì abbiamo di nuovo una prova importante e difficile. Dobbiamo rialzare la testa e faccio comunque i complimenti ai giocatori perché hanno interpretato alla grande la partita. Devo dire che ci sono state delle belle sorprese. I giocatori che non avevano avuto la possibilità di valutare in questo poco tempo hanno fatto tutti un'ottima gara. Grazie.